Noi siamo sempre più il Giro e devo dire che questa esperienza del Giro diventa ogni anno sempre più affascinante e si scopre ancora anche in quest'anno quanto nonostante tutto quello che abbiamo attraversato il Giro unisce e fa vedere il bello, il divertimento che c'è in questo meraviglioso sport e anche tutto quello che significa la fatica, il lavoro, l'impegno. Enel e il Giro d'Italia sono veramente molto connessi, è un bellissimo connubio. Per noi è l'onore di avere Enel come nostro partner e come sponsor della Maglia Rosa. La Maglia Rosa festeggia i suoi 91 anni quest'anno, quindi è una Maglia Rosa che ha una ricorrenza speciale con la nuova Maglia Rosa, con Enel col marco dei 60 anni e il degno coronamento di questo Giro d'Italia che tra un mese comincia. Il percorso dell'energia è un percorso che va di pari passo con lo sviluppo della società e quindi attraverso quello che abbiamo fatto, che l'Enel ha fatto in tutti questi anni, c'è una storia dell'evoluzione del nostro paese e oggi anche dell'evoluzione di tanti altri paesi in cui siamo presenti. È un viaggio che non finisce mai. 60 anni sono pochi, siamo molto più giovani di questo.